Il disegno di legge sull'anticorruzione verrà votato nella serata di mercoledì prossimo, le dichiarazioni di voto inizieranno alle ore 18, lavoreremo oggi, domani, martedì e mercoledì, arriveremo quindi a un traguardo finale sul quale l'area popolare si è impegnata attraverso il suo relatore e attraverso i propri esponenti in commissione, lo stesso fare in aula con serenità, senso di responsabilità perché uno dei punti di forza della nostra linea politica è il contrasto alla corruzione senza sé e senza ma.